Oh, senza luna sai, la notte è scura più che mai Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati nel canale Stellina Stars Allora, oggi giro un video tag in collaborazione con una mia amica Questo abbiamo, non so se c'è già, si gira già sul, mi sono cambiata anche la mise Detali, si gira già sul tube E il tag di Gelati in collaborazione con Roxy Lady Quindi del canale Roxy Lady, una mia amica Brava, anche lei, fa il video veramente con passione, simpaticissima Andatela a vedere ed iscrivervi, sotto ovviamente vi lascerò il link, grazie Ho fatto questa collaborazione su questo tag, veramente ti mando un kiss Top Allora, le domande Sono dieci Più la undici dai un voto al tag E la dodici ho taggato anche dei canali, vi avviso già di Che non fanno solo cani di bambini, ecco Cani di gameplay, io ne ho sette Poi lei ovviamente taggerà, insomma, chi vuole Il primo Che gusto di gelato ti piace? Mi piace gelato nella liquirizza Strano ma vero Molto buono, molto particolare Secondo me è un buon gelato Preferisci i gelati confezionati o in gelateria? Per ora confezionati, perché in gelateria costano un po' Comunque un disegno mi piace tutti e due Tre, quante gelati mangio a settimana? Le incerca tre Due o tre, sono golosa Il gelato che odi? È il gelato a caffè Lo odio Cinque, un gusto di gelato che non hai mai provato È il gusto, forse i gusti dolci Se i gusti, sapete i gusti quelli Sapete i gusti quelli Quelli fatti con il gelato Quindi penso che la cassata l'ho provata Il gusto canolo Canolo siciliano, ecco Il gusto non Fraintendete, premetto Comunque quel gusto lì non l'ho provato, insomma Penso un tipo che se ce l'hanno Il gusto Fatto anche in Sicilia Scusate le campane Questo gusto qui Non l'ho provato canolo siciliano Sette, cono o cupetta Preferisco il cono Di gran lunga il cono Sette, mangio il gelato tutto l'anno Solo d'estate Io intanto ho il tag sempre In questo quadranetto New York Top No, tutto l'anno Tutte le stagioni Tutto l'inverno, l'estate, prima Magnum corrento algida Certo, il magnum Alla nocciola Nove Il gelato al cioccolato Fragola Assolutamente alla fragola Odio il gelato al cioccolato Le torte al cioccolato Dici il tuo gelato preferito Il mio gelato preferito è la liquirizza Con la liquirizza Se no il gelato preferito è mio Per ora Per ora Dicevo Ovviamente non mi offendo Io ti ho taggato Perché insomma Mi è venuto in mente Questi canali The Gamer Ciao XX Matti88 Ciao Taggo se lo vuoi fare Se no So che non fai tag Come le altre due canali Che citerò L'altro canale L'altro canale Ovviamente Non mi offendo Ti ho taggato Perché ci sei sempre presente Guardi sempre i miei video Quindi ciao Poi Le penultime due Ma non penultime Aurora Star Vedo che mi commenta E ho detto Aurora Fallo anche tu Se ti va Aurora Star E mamma consiglia Penso lo farai Quindi ciao Linda E ti ho taggato anche te Penso Roxy tagghi Altri due Che avrei taggato io Quindi basta Ringrazio Roxy Per il Ovviamente Per questa collaborazione Insieme Grazie mille Buon kiss Passata del nostro canale Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto Un bel pollicino in su Abbiamo già il giorno Abbiamo già deciso il giorno Per cui Ovviamente Metterlo online Quindi Bell Lasciate un bel like Se vi è piaciuto il video Ovviamente Lasciate il commentino sotto Mi raccomando Se volete farlo Se volete essere salutati Come vi va Condividete questo video Se non l'avete ancora fatto Importantissimo Iscrivetevi al canale Per non perdere il nuovo video Attevate la campanelluccia La campanellina Sempre attiva Mi raccomando Seguitemi sempre Sui social Leggete sempre Nell'info box C'è tutto Io ovviamente Lo scrivo E basta Spero insomma Che vi abbia tenuto Un po' di compagnia Io Che dirvi Che dirvi Mandarvi i grossi E grazie a Roxy Saluto tutti E Grazie ovviamente Che mi seguite Tanti kiss Ciao